buongiorno da obiettivo news oggi 10 aprile santa maddalena di canossa in questo giorno ogni anno in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale dell'omeopatia la data è quella di nascita di samuel henman il medico tedesco fondatore della corrente omeopatica il termine omeopatia deriva dal greco e significa simile la malattia oggi anche la giornata nazionale del gen dujotto e la giornata nazionale del cinnamon crescent letteralmente mezzaluna alla cannella una sorta di brioche cornetto ripieno con cannella tra i nati oggi nominiamo joseph pulitzer 1847 caterina caselli 1946 e nancy brilli 1964 tra i scomparsi ricordiamo il compositore italiano nino rota 1979 ciao 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 ciao